Ed eccoci qua ragazzi andando con un nuovissimo video di Fortnite, ovvero come ripristinare l'anti-cheat di Fortnite. Se non dovesse funzionare e vi da questa scremata qui, io gli ho fatto lo screenshot perché adesso mi funziona normalmente, vi faccio vedere come aggiustarlo. Allora, primo passaggio da fare, prima cosa da fare è andare a verificare i file del gioco. Come si fa? Andare su Fortnite, Epic Games Launcher, libreria, i tre punti e dopo i tre punti fare gestisci e verifica file. Dopo che ha caricato avviate il gioco e vedete se funziona. Step 2, se non dovesse funzionare in questo modo bisogna andare su esplora file, andare nel disco dove sta il vostro Epic Game, Io sono andato sul disco D, nel vostro caso si potrebbe trovare, nella maggior parte dei casi si trova sul disco C, però io sono andato perché l'ho installato sul disco D, quindi sono andato sul disco D e ho cercato direttamente la cartella contenente Fortnite, quindi Epic Game, l'ho chiamata così la cartella, ci sono entrato dentro e c'è Fortnite, cliccate Fortnite, cliccate Fortnite Game, dopo aver fatto Fortnite Game andiamo su Binaries, dopo aver fatto Binaries Win64 e andiamo a cercare alcuni file. Andiamo a cancellare 1, 2, 3, anche questo, tutti questi file con la F di Fortnite, quindi ora ve li seleziono tutti e andiamo a cancellare tutti questi file. Una volta cancellati questi file, ritornare nell'Epic Games Launcher, andare sui tre punti, gestisci e riverificate nuovamente i file. Lo avviate e vedete se funziona tutto. Non dovesse funzionare neanche questo metodo? Andiamo a vedere un altro metodo. Ritorniamo sempre nella cartella di dove abbiamo cancellato i file, perché quando noi facciamo verifica, cancelliamo questi file qui, noi facciamo verifica, i file verranno reinstallati in automatico. Una volta che abbiamo cancellato i file, tutto quanto fatto, cancellato i file, verificato il programma e tutto, ritorniamo nuovamente qua, nella schermata dove siamo andati prima, quindi Fortnite, Epic Game, Fortnite, Fortnite Game, Win64, Binaries, e siamo qui. Ora, Epic Game, Epic Game, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64, vabbè. Entriamo di nuovo qui e andiamo su Easy Anti-Cheat, non questo qui sotto, perché se noi andiamo ad avviarlo, clicchiamo su sì, ah no, dobbiamo andare su Easy Anti-Cheat Camo, perché l'Easy Anti-Cheat normale non funziona. Questo anti-cheat qui non ve lo fa avviare. Andiamo su Easy Anti-Cheat Camo, questo qua, e cliccate dentro, cliccate, doppio clic sull'eseguibile, quindi questo qua, e cliccate su sì. Una volta che avete cliccato su sì, vi appare questa schermata qua. Prima cosa da provare è mettere Game217 e fare riparazioni. Reprisino, riparazioni, ok. Lo cliccate, aspettate che finisce, e poi avviate il gioco. Non funziona ancora? Bene, clicchiamo disinstalla. Una volta fatto disinstalla, aspettate 10 secondi, e poi lo reinstallate. Una volta fatto ciò, provate a riavviare il gioco, non funziona? Bene, c'è un ultimo metodo che dovrebbe funzionare per forza. A me ha funzionato, poi non so voi. Andiamo su Easy Anti-Cheat Camo, sempre come al solito, che ve l'ho fatto vedere. Andiamo su questo qui, Easy Anti-Cheat. Fate, mostra altre opzioni, fate invia a desktop, crea collegamento, voi, create un collegamento sul desktop. Ed eccolo qua, il nostro Easy Anti-Cheat. Adesso l'unico cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare su proprietà, e andare ad incollare, ora ve lo faccio vedere proprio, vi faccio vedere il procedimento scritto su un foglio di testo. Dovete andare ad incollare dopo l'eseguibile XE, come potete vedere, dovete andare a mettere dopo l'XE, questo qua, Easy Anti-Cheat.XE, dovete andare ad installare una nuova cosa. Dovete andare a mettere, vedete, dopo il setup, aprite le apicetti, e andate ad installare install prod-fm, proprio così come sta scritto qua. Se volete, me lo metto nei commenti, però, ditemelo voi, ditemelo voi, se no non lo metto. Dovete andare a prendere tutto quanto, quello che sta da, dove sta D-A qua, no, direzione, direzione, scusate, dove sta direzione, dove sta destinazione, scusate, che lo vedete qui, non so se si vede benissimo, non so quanto si possa vedere dal video. Una volta che sta qui, andiamo a scrivere questa cosa qua, install prod-fm. Una volta installato questa cosa qua, fate ok, tutte le volte fate ok, io ovviamente non salvo. lo cliccate due volte, cliccate su Easy Antichit, voi vedete un attimo nero, però, non fa niente, cliccate su sì, su quello che vi dà, voi cliccate su sì, lo avviate, il doppio clic, sì, e vi dovrebbe risolvere il problema dell'Easy Antichit di Fortnite, che non funziona più. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se qui state lasciate un bel like, un bel mi piace, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!